Ok, con questo video qui voglio fare una puntata speciale perché se è vero che siamo tutti un po' psicologi è anche vero che siamo tutti un po' panettieri e quindi voglio parlare di pane perché il pane è alla base delle nostre civiltà E dove mi è venuta l'idea? Sto leggendo qualche libro che parla anche di questa cosa e poi negli ultimi anni tra pandemia e guerra una delle parole che sentiamo più frequentemente al telegiornale oltre a benzina è grano perché quello che intimorisce i governi è il costo del grano quando il costo del grano diventa per una popolazione o una civiltà insostenibile succedono le guerre perché fino a quando il pane costa poco andiamo tutti d'accordo quando non ci possiamo più comprare il pane ci riscanniamo tutti A cura! Lo sai cos'è il pane, giusto? Certo che lo sai e se sei pure bravo sai di che cosa è fatto, giusto? Beh certo Di acqua e farina e un po' di sale ma lo sa chi l'ha inventato? Forse no, sinceramente io non lo sapevo li ha studiati gli egizi a scuola certo e sappiamo tutti che gli egiziani sono quelli che hanno costruito le piramidi ma non ci hanno mai detto come hanno fatto a costruire le piramidi le hanno costruite con gli schiavi troppo facile ma come facevano gli egiziani o meglio i faraoni a mantenere tutti questi schiavi cioè non farli morire di fame in mezzo al deserto con il nilo che c'era l'acqua sì ma grazie al nilo si sono potuti permettere estese coltivazioni di grano per fare il pane le piramidi sono state costruite grazie al pane e il pane è stato inventato dagli egiziani circa 3000 anni fa sta cosa è fondamentale come è che non ce l'hanno spiegata bene come io a me non l'aveva mai spiegata nessuno bene acqua e farina cotta e campi ma come si è arrivati a cuocere acqua e farina ormai ciò siamo raccontati anche in altri video prima le popolazioni non erano stanziali erano nomadi campasiamano e mangiavano quello che potevano raccogliere o cacciare e a un certo punto probabilmente qualcuno si sarà messo a mangiare chicchi d'erba buf affamato diceva ma io devo mangiare c'è erba c'è il grano i chicchi, i semi dell'erba mangeresti mai? i chicchi di grano trovati in un campo non li mangeresti mai eppure oggi è una delle coltivazioni che ricopre praticamente il nostro pianeta praticamente a un certo punto qualcuno avrà pensato questo chicco è troppo duro aspetta che lo schiaccio stava mangiando di fame doveva mangiare per forza quindi ha preso il grano e ha cominciato a schiacciarlo e ha inventato la farina o scoperto la farina non lo so come si può dire però a un certo punto era ancora brutta sta polverina o sta scassata in bocca e ha aggiunto l'acqua ha inventato la sua prima sbobba già acqua e farina diciamo si può mangiare però la rivoluzione è stata quando questi qua hanno cotto acqua e farina e hanno inventato il pane ci siamo già raccontati nel video dove abbiamo parlato del barbecue che è cuocere i cibi e ciò che contraddistingue praticamente l'essere umano dagli animali quindi questi qua oltre a cuocere la carne avranno cotto pure sta sto miscuglio di acqua e farina e hanno inventato il pane e quindi a un certo punto le popolazioni hanno potuto coltivare grano perché bastava appunto un po' di acqua e farina e mangiavi mangiavamo tutti con acqua e farina e la vera rivoluzione è stata appunto la scoperta della lievitazione quello che noi ciò lievito sì ma come l'hanno scoperto l'hanno scoperto sicuramente con una botta di fortuna praticamente qualche egiziano avrà dimenticato sta sbobba lasciata fuori sotto al sole l'ha ritrovata dopo qualche giorno e ha visto che quel po' di acqua e farina che aveva lasciato era diventata una montagna un impasto ha lasciato tanto era diventato tanto e anziché buttarlo perché faceva pure un po' di puzza ha detto tale io lo metto in forno e quando l'ha uscito al forno era una cosa buonissima e pensandoci non l'ho letta nessuna parte a sta cosa probabilmente da qualche parte in internet ci sarà pure scritta io non l'ho letta sono sincero probabilmente sto dicendo una bestialità che potrebbe pure offendere qualcuno però mi sono fatto un flash ho pensato che magari quando si parla di moltiplicazioni dei pani da parte di Gesù come miracolo è proprio questo perché alla fine la levitazione è un miracolo può essere che quando si racconta il miracolo della moltiplicazione dei pani è proprio questo Gesù aveva scoperto in qualche modo la levitazione naturale e l'ha fatta e poi di bocca in bocca cosa che fece a un certo punto mio il pane è diventato era poco ed è diventato un sacco può essere che prima che questo il miracolo della moltiplicazione dei pani perché è a tutti gli effetti un miracolo non è che come oggi che magari da un posto lontanissimo chiamiamolo sai che hanno inventato ma hanno raccontato che da lì hanno inventato questa cosa qui e dopo due giorni eppure è qua prima le distanze erano immense non è il caso che era così facile scambiarsi le informazioni tra le persone non è come così facile che apriamo facebook e vediamo il video che ha fatto uno a 10.000 km di distanza così è incredibile non era così facile quindi probabilmente chissà cosa c'è dietro la narrazione dei miracoli ma non è questo il problema oggi a noi interessa capire cos'è la levitazione e come si fa perché appunto l'invenzione del pane ha permesso a noi ha permesso all'umanità di poter di potersi unire in civiltà e cominciare a cambiare questo mondo fammi cambiare che facciamo questo esperimento allora considera che oggi per fare il pane si usa il lievito di birra il lievito di birra si chiama così perché appunto è stato isolato è stato scoperto nella birra praticamente era il lievito che spontaneamente faceva fermentare la birra è sempre un lievito naturale però quando noi lo compriamo appunto è un lievito c'è un singolo tipo di microrganismo isolato eliofilizzato quindi messo a cubetti che poi quando noi usiamo riattiviamo mettendoci l'acqua e la giusta temperatura comunque è sempre un lievito naturale ma si usa da troppo poco tempo fino a cent'anni fa praticamente per fare il pane si è sempre usato quello che appunto chiamiamo lievito madre e il lievito madre si forma attraverso la fermentazione spontanea di farina e acqua e per fermentazione intendiamo quel processo chimico fisico e biologico che permette appunto ai micro organismi che sono dappertutto cioè in questo momento io sono circondato di microorganismi e tu sei circondato di microorganismi nelle mie mani ci sono microorganismi che sono prevalentemente appunto batteri e lieviti e sia batteri e lieviti sono organismi unicellulari cioè composti da una singola cellula i lieviti non sono batteri ma sono funghi ora non mi chiedere la differenza sostanziale tra batteri e lieviti i lieviti sono funghi i batteri sono batteri però i lieviti sono in ogni caso funghi composti da una singola cellula non come quelli che trovi nei boschi appartengono alla stessa famiglia ma sono appunto funghi microscopici e unicellulari nel momento in cui noi mettiamo insieme farina e acqua avviene quella cosa lì che attrae appunto all'interno di questo impasto questi microrganismi perché questi microrganismi si cibbano di quello che contiene questo impasto qui ma dici e perché a un certo punto i batteri non vanno nella farina senza acqua e sta cosa mi ha solo chiesto pure io ho detto ma perché i batteri e i lieviti non vanno nella farina senza acqua perché praticamente non riuscirebbero a scomporre le molecole della farina perché all'interno della farina quando metti l'acqua quindi comincia a impestare avviene questa cosa qui considera che non è il canale giusto per capire questa cosa però te lo accenno perché me lo ho capito io praticamente la farina contiene l'amido l'amido non è altro che uno zucchero complesso quindi quello che poi noi chiamiamo carboidrato praticamente comunque l'amido è uno zucchero complesso complesso perché composto da più molecole aggregate quando noi mettiamo l'acqua quest'amido si scioglie e diventa zucchero semplice ovvero glucosio quindi queste molecole che formano l'amido fatte di zucchero che compongono zuccheri complessi si separano tutte e diventano zuccheri semplici appunto i microorganismi di cui siamo circondati si scibbano di questi zuccheri semplici in poche parole lieviti e batteri mangiano lo zucchero semplice e attraverso il loro processo metabolico poi emettono anidride carbonica e alcol e mettendo anidride carbonica e alcol la farina appunto cresce perché attraverso il glutine che contiene e imprigiona l'anidride carbonica il pane o meglio l'impasto gonfia poi quando mettiamo in forno l'alcol le evapora e rimane l'anidride carbonica all'interno del pane imprigionato all'interno alle sacche di glucosio questo proprio detto in modo velocissimo frettoloso e forse pure a tratti sbagliato ma il concetto è questo i lieviti attraverso appunto il loro metabolismo mangiano zucchero ed emettono anidride carbonica ci siamo capiti e tu dici ma come che stiamo parlando di questo all'interno di un canale di psicologia perché questa è psicologia senza poesia e la psicologia è lo studio dei nostri comportamenti delle nostre civiltà dei motivi per i quali facciamo cose e perché siamo in un determinato modo e noi siamo il risultato dell'invenzione del pane e soprattutto studiamo che cos'è la vita e oggi stiamo studiando la vita degli evi tu mi chiedi ma quando è che un organismo si può definire vivente rispondi quando è che un organismo si può definire vivente da cosa capiamo che un organismo è vivo perché una pietra non è viva e le persone dicono vabbè perché appunto non è un organismo biologico fatto di idrogeno e carbonio e dici vabbè e cosa c'entra quella è la molecola la molecola chimica cosa contraddistingue un organismo vivente da uno non vivente perché il lievito cioè quando è un organismo vivente fatto in alto alla cellula non lo vediamo ma è un organismo vivente comunque detto proprio al volo approfittiamo di questo video per raccontarci questa cosa qui perché stiamo parlando di vita un organismo è vivente quando è capace di conservare e trasmettere energia e tu dici ah beh pure le batterie lo fanno certo infatti però non basta le batterie non sono organismi viventi perché oltre a conservare e trasmettere energia gli organismi viventi sono capaci di conservare e trasmettere informazioni non solo attraverso il linguaggio ma prevalentemente attraverso il loro patrimonio genetico e i batteri e i lieviti dentro hanno il DNA e il DNA è un contenitore di informazioni quindi i batteri e i lieviti si possono riprodurre ed è quello che avviene quando tu impasti e fai lievitare i batteri si riproducono continuamente mangiano emettono e si riproducono mangiano emettono e si riproducono e oggi noi stiamo facendo questo stiamo praticamente fornendo un habitat per permettere a batterie e i lieviti di potersi moltiplicare e divertire allora ho letto su internet tanti modi per fare il lievito madre quindi noi utilizzeremo uno su internet ti hanno un sacco di ricette per fare il lievito madre che in realtà non sono che riassunti che tentano di velocizzare il processo che forma appunto quello che poi noi chiameremo il nostro lievito madre ma forse abbiamo dimenticato di dire la cosa più importante perché lo stiamo facendo perché appunto il lievito madre poi serve a fare il pane non inforni il lievito madre ma ne prendi un pezzo lo metti nell'impasto e lo utilizzi appunto come lievito anziché il lievito di birra appunto metti il lievito madre e per avere una lievitazione appunto più naturale e forse il pane diventa più buono dicono tutti così io ho assaggiato e fondamentalmente è vero comunque non importa oggi quello che noi facciamo è questo e su internet ho capito che basta in teoria prendere 100 grammi di farina e 50 grammi d'acqua metterli insieme e impastare impastiamo e poi praticamente dobbiamo farla andare a male ho letto su internet che bisogna aspettare come minimo 48 ore dopo 48 ore aggiungere un altro po' di farina e un po' d'acqua dopo altre 24 ore aggiungere un altro po' di farina e un altro po' d'acqua e così via l'unica cosa è utilizzare acqua minerale non di rubinetto perché l'acqua di rubinetto contiene appunto cloro cloro che rischierebbe che potrebbe uccidere batterie e lieviti che noi interessano quindi non va bene ma l'acqua poi sarà poco però così ho letto impastiamo vediamo cosa ne viene fuori lo testamento aggiungere un po' d'acqua mi raccomando prima di farlo non lavare le mani perché col sapone rischiaresti di uccidere tutto magari servono pure i batteri che ci sono nelle mani fituse o magari col sapone rischiaresti di contaminare la farina e quindi non permettere ai batteri di poterla raggiungere rimanendo vivi allora io questa la lascerei così forse è un po' secca anche perché qui è rimasta farina però vediamo come va magari se non va bene ci riproviamo quindi dopo che abbiamo fatto questa pallacqua di acqua e farina la mettiamo dentro un barattolo la mettiamo dentro un barattolo così prendiamo pellicola trasparente e facciamo così lo chiudiamo e lo bucaregliamo un po' così permettiamo un minimo di scambio con l'ambiente e soprattutto permettiamo ai batteri di poter raggiungere il nostro impasto permettiamo non ai batteri ai batteri e ai lieviti di poter raggiungere il nostro impasto va bene li controlliamo fra due giorni ok sono passati due giorni e questo è il risultato in questo momento non sembra che ci sia attività extraterrestre non so neanche se sta funzionando comunque adesso devo aggiungere altri 100 grammi di farina e il impasto insieme a questa di qui vediamo com'è non vuole uscire si è incollata mi aspettavo di trovare una cosa durissima invece è super morbida non fa neanche puzza mi devo sporcare tutte e due le mani prima volevo usare una sola la metto nel baratto ok incredibile oggi è il quarto giorno e non mi va di andare nel laboratorio segreto per continuare l'esperimento quindi facciamolo qui incredibile ci siamo siamo al quarto giorno rispetto a ieri c'è vita ed è pure il doppio quindi oggi facciamo un altro rinfresco ci aggiungiamo un altro po' di farina con un altro po' d'acqua un altro piccolo impasto e praticamente ci siamo l'odore non è il top però da quello che ho letto appena sarà maturo quindi completo è utilizzabile dovrebbe anche fare un buon odore su barattole piccolo non è molto lavorabile stanno provando a mangiare pure me mi sa ho fatto lo slime ok sono sopravvissuto e ho pure le mani pulite vediamo come sarà domani ok è passato un altro giorno ed è collassato quindi ho deciso di rifarlo in un altro barattolo impastando altri 100 grammi di farina altri 50 grammi d'acqua però recuperando un po' di lievito già fatto che è vivissimo è un concentrato di lievito che potete vedere pieno di bolle quindi adesso riempasto tutto utilizzando un po' di lievito e vediamo se accelero il processo e faccio un lievito più maturo questo è praticamente collassato però bello concentrato lievito puro ok ho perso il conto dei giorni ma ieri ho aggiunto altri 100 grammi di farina questo risultato è lievitato spontaneamente ci sono delle sacche di vuoti d'aria spontanee ok va bene così è stata praticamente un'avventura ma questo è il risultato che secondo me dovrebbe funzionare è lievitato spontaneamente e sembra abbastanza solido sembra non lo so un buon presentimento in settimana proverò a fare il pane così ci aggiorniamo intanto grazie per essere arrivato fin qui e spero che vi siete divertiti ciao a tutti grazie a tutti